Prosegue il programma di prevenzione orale messo in campo dall'Associazione Alda e Sergio per i bambini. Questa mattina in Comune a Pescara è stata presentata la declinazione del 2023 dell'iniziativa promossa dall'Associazione. Presenti il Presidente Massimo Parenti e l'assessore all'ascolto del disagio sociale del Comune di Pescara Nicoletta D'Inisio. Un progetto che abbiamo avviato in tranquillità dall'anno scorso, anche in occasione dei bambini ucraini che vennero qui. E noi ne seguimmo diversi, tra l'altro erano dei bambini ucraini sordomuti, portandoli dal dottor Falco della Falmed e sottoporli a queste cure odontoiatriche. Oggi lo ripetiamo questo progetto e siamo qui con la D'Inisio, appunto perché essendo lei assessore alle politiche sociali e seguendo molto da vicino famiglie in uno stato di necessità, lei riuscirà sicuramente a canalare un po' di bambini che hanno bisogno. Perché? Perché nella famiglia, oggi come oggi, che succede? Il problema del bambino viene spostato, viene spostato più che altro per problemi economici. Quindi aspetta oggi, aspetta domani, il discorso della carie fa il suo effetto. Naturalmente questa visita è totalmente gratuita, è tutta a carico della Falmed. In che modo verranno individuate le famiglie e quindi anche i bambini che potrebbero aver bisogno di queste visite odontoiatriche? Sicuramente tramite la lista che noi già abbiamo delle persone disagiate che hanno un'esie basso e che comunque sono aumentate nel tempo, soprattutto nel periodo Covid. Quindi sarà fatta questa selezione e invitiamo tutte le famiglie ad andare a fare prevenzione per i bambini e ci auguriamo che questo abbia un buon esito. Immagino che siano tante le cose di cui c'è necessità in questo momento per le famiglie in difficoltà. Qual è l'emergenza secondo lei? L'emergenza oltre al fatto che non si arriva più a fine mese, quindi parliamo di cose principali per i bambini che devono andare a scuola, per le spese dei libri, per tutte le spese che poi ci accompagnano e per le banalità come può essere anche una gita scolastica. Poi c'è anche l'aggravante che il governo ci ha dato mia invece del reddito di cittadinanza, quindi dobbiamo rivedere un po' tutto e dare il più aiuto possibile a queste famiglie.